L'incidente di Zanardi e la seconda grande battaglia per la vita che sta affrontando dopo quella del 2001 ha generato un'ondata emotiva con pochi precedenti. Testimonianze di affetto e vicinanza che sono arrivate anche dagli appassionati di motori radunati al circuito di Modena per un evento Ducati. Io con Alex Zanardi che conosco personalmente ci ho fatto la maratona delle Dolomiti due volte e una volta la Novecolli in bicicletta. Sei un grande Alex, in bocca al lupo. Zanardi è un simbolo per il motorsport, una persona che nel tempo, uno sportivo straordinario che nel tempo ha mostrato una tenacia, una forza incredibile. Ha stato un esempio di vita per tutti, per la forza che ha avuto dopo quello che gli è successo e per quello che ha fatto fino adesso, una cosa veramente incredibile. Sono sicuro che la sua positività riuscirà a farlo passare anche da questo punto strettissimo, sicuramente difficile, ma ha passato momenti che non possiamo solo immaginare. Quindi sono sicuro che ce la farà. Un grande campione, speriamo che ce la faccia anche questa volta perché ce ne sono pochi come lui e resterà un mito. Auguri Alex, ce la farei per la seconda volta.